buongiorno a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in un nuovo video in questo video faremo lo spacchettamento di album 13 che in realtà mi è già arrivato da un po di tempo ma non ho fatto veramente in tempo a registrarvi prima il video quindi vi chiedo scusa quindi spacchetteremo album 13 c'è anche qualcosina dentro già del catalogo di natale quindi direi che possiamo iniziare ricordatevi come sempre di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per restare aggiornati sui contenuti che porterò nel canale ovviamente allora in questo pacco abbiamo un po di cose tra cui anche tre sacchetti che ho già preparato che sono qui e dopo vi farò vedere allora la prima cosa che mi hanno ordinato è questo bagno doccia alla mandorla e fiori d'arancio da 400 ml al costo di 3 euro e 95 poi abbiamo un altro bagno doccia al cocco da 400 ml quindi sempre 3 euro e 95 poi abbiamo un altro bagno doccia al pompelmo e timo 400 ml 3 euro e 95 anche se non mi piace tanto quella profumazione onestamente poi mi hanno ordinato un uno shampoo dai riflessi verati 200 ml il costo di 4 euro e 95 questo è buonissimo sa di camomilla lo uso anche io molto buono poi uno shampoo della linea nutrizione da 300 ml sempre 4 euro e 95 un aceto da risciacquo questo è al lampone la nuova formula con i fruttali d'agave molto molto buono mi pare che costi sui 9,95 se non mi sbaglio poi allora qua c'è la bella cattura la possiamo anche togliere questo ordine era di 280 euro se non mi sbaglio si 270 una roba del genere comunque il prezzo era quello qui ho ordinato per me queste bustine che vendiamo noi tutte con i loghi di Ibrochet molto carine per chi prende proprio pochi prodotti poi vi farò vedere li ho ordinati proprio appositamente per una cliente che mi ha chiesto me l'ha chiesto quelli che vedete qui sono dei campioncini che c'erano all'interno della delle buste che ci mandano di solito che sono queste c'erano dentro anche i fogli della fattura che ho già tirato fuori questi sono i campioncini che mandano di solito poi cosa ordina beh qua c'è un altro ordine 13 qua ci sono delle buste che ho ordinato io ma mi sa che ho sbagliato ad ordinarle perché le avevo ordinate da catalogo tipo natalizie e mi sono arrivate così quindi penso di aver sbagliato io il codice allora qui all'interno inizia un po' di marasma allora qua abbiamo intanto un latte corpo da 200 ml questa è la versione nuova ai fiocchi di neve di Natale e che costa aspettate che do un'occhiata perché non ne ho idea non mi ricordo proprio il latte corpo viene 4,95 ecco qui latte corpo 4,95 ed è appunto questo poi abbiamo invece un bagno doccia agli alberi incantati e da 200 ml e questo penso che venga sempre 4,95 però per sicurezza diamo una controllatina questo è l'olio doccia quindi no bagno doccia adesso ho un dubbio si costa 2,70 euro a dire il vero quindi scherzavo il bagno doccia 2,70 euro ok ah poi abbiamo anche una saponetta di queste sempre alla profumazione alberi incantati sono 150 grammi quindi è molto più grande rispetto a quelle che abbiamo di solito in catalogo e quella viene 4,95 ora vi prendo per esempio questa però 4,95 ok allora adesso qui in realtà ho ordinato io una scatolina che c'era nel tra di noi questa scatolina molto carina natalizia piccolina non so per cosa la userò però l'ho ordinata ok poi ho ordinato in realtà questi che sono i nostri loghi per chiudere sacchetti dorati con la scritta appunto Yves Rocher adesso non ve li tiro fuori perché escono da qui e sono già pronti all'uso quindi lo chiudiamo allora poi vabbè qui ci sono un po' di album 14 che sono i nuovi album che abbiamo in vigore dal 23 di ottobre con anche all'interno ora vi faccio vedere una cosa con all'interno il calendario dell'avvento che sarà disponibile dal 23 ottobre al 4 novembre al costo di 49,95 l'edizione è limitata ovviamente quindi vi consiglio per tutti coloro che vogliono acquistare il calendario dell'avvento se non siete consigliere di bellezza potete contattarmi tramite email e avrete anche il 15% di sconto dal prezzo originale e vi consiglio di fare l'ordine quindi subito al più presto il 23 di ottobre perché l'anno scorso il calendario è andato a ruba quindi il consiglio è se vi interessa di affrettarvi ok poi qui cosa abbiamo di questo ce n'erano due in realtà ah ok l'altro è dall'altra parte ok qua abbiamo in questa scatoletta abbiamo già un regalino di Natale ora vi faccio vedere com'è bello la confezione è questa dove abbiamo tutti i mini bagno doccia almeno non tutti proprio però penso che abbiano messo i più venduti ve la tiro fuori tanto questa è mia e i bagno doccia sono mango e coriandolo vaniglia argane rosa pesca e anice stellato fiori di loto e anche melagrana e pepe rosa questo secondo me è un pensierino molto carino da fare a persone che non hanno mai provato magari bagno fiume di brochet così che sentano tutte le profumazioni e se ne innamorino proprio come almeno come me in questo caso quindi secondo me è un ottimo pensiero poi allora ho ordinato anche questo che è un nastro classico dorato per chiudere i pacchetti e qua cosa manca manca questa che invece è il set di cremi nei mani se ve lo faccio vedere anche questo è uguale a quello dell'anno scorso ma in più forse l'anno scorso c'erano oliva e cocco quest'anno hanno messo fiori di loto e una nuova profumazione mi sa che è in edizione limitata quindi ha lampone e menta piperita come il bagno doccia e in realtà questo l'ho preso per me perché volevo appunto avere l'anteprima della cremina mani quindi poi l'ho usata ed è chiaramente uguale al bagno doccia la profumazione è la stessa allora qui in basso in realtà io dovevo avere non so dove li ho messi perfetto allora vabbè ah eccole qua qua ho una rapidità che ho ordinato io per 3,95 euro questi tre mini bagno doccia all'olio d'oliva alla magnolia a tè bianco e all'argane rosa quindi questi tre sono miei poi in realtà c'era anche il regalo dei 200 e passa euro ma non so dove l'ho messo perché l'avevo già aperto il pacco vabbè comunque mancano un sapone mani di questa linea e un balsamo labbra che però adesso non ho qui non so dove li ho cacciati allora poi io ho già messo in queste bustine una cliente mi ha preso appositamente quattro di questi shampoo concentrato alla mela grana ne ha presi due e poi ha preso la cremina mani ora vi faccio vedere così ai fiori di loto per fare dei pensierini di natale quindi questi prodotti io all'interno ho messo dato che li ho acquistati questi bigliettini di auguri che sono chiaramente ripiegabili e qua potete scrivere la vostra dedica e all'interno come potete vedere c'è anche un campioncino dell'Hydra Vegetal perché in questo album ogni 15 euro di spesa avevate in omaggio uno di questi poi li devo chiudere ovviamente io adesso li ho messi così e basta questo ovviamente è uguale quindi come quello che vi ho fatto vedere adesso poi ne abbiamo un altro che invece ha dentro questo ai fiori di loto al posto della mela grana ok le creme mani sono tutte uguali anche questo è uguale all'altro che vi ho fatto vedere con la cremina mani ok poi un'altra mia cliente mi ha preso un fondotinta dello zero della zero difetti colore è beige 200 no dore 200 scusate beige 200 è l'altro che devo acquistare poi allora ho un profumo evidence da uomo eccolo qua sempre lo stesso cliente che me lo acquista perché è innamorato di questo profumo e anche per lui c'è un campioncino della crema hydra vegetal perché ovviamente spendendo 27 euro e 95 di profumo aveva in omaggio la la cremina e per ultimo una cliente mi ha acquistato praticamente quasi tutta la linea nuova quindi mi ha preso questo siero riequilibrante antiossidante della sebo vegetal questo che è un anti mi pare un anti imperfezioni però non vorrei sì un anti imperfezioni della linea invece sebo pure vegetal quindi per le pelli impure all'interno aveva in omaggio questi due campioncini uno della sebo pure vegetal e uno della sebo vegetal per gli acquisti che ha fatto poi ha preso il tonico effetto cipro opacizzante che come vedete se ve lo tiro fuori se lo lasciate in piedi si deposita qui sotto la polvere di tebo le ali che ha all'interno e poi va miscelato come se fosse un un bifasico insomma ok possiamo inserirlo di nuovo e poi l'ultima cosina è questa ovvero un trattamento idratante anti imperfezioni della linea sebo più vegetal ok questi sono i pacchettini qua vabbè abbiamo il solito volantino per il club prestige e questo lo possiamo anche spostare e ora vi faccio vedere i sacchettini che ho già preparato che sono questi allora in un sacchettino una cliente dove ho messo album 14 e la cliente mi ha preso quello che vi ho fatto vedere prima quindi aiuto il set di bagnoschiumi sono tutti uguali ovviamente come prima ecco qua quindi vado veloce su questo perché ve l'ho già fatto vedere poi devo inserirlo ancora a tutti i campioncini perché non ho avuto il tempo materiale poi un'altra cliente mi ha aiuto acquistato due allora un balsamo della linea colore uno shampoo della linea colore questi vanno a 4,95 l'uno e un deodorante alla milagrana di spagna con zero sale di alluminio questo viene 3,95 quindi ok anche qua devo inserire i campioncini poi l'altra cliente invece mi ha preso allora della nuova linea alla come si dice per pelli sensibili mi ha preso il set quindi questi due sono costati 9,95 quindi mi ha preso il gel doccia per pelli appunto delicate e anche il gel doccia senza schiuma quindi li ha presi in questo caso per la figlia che è ancora piccola quindi ha voluto testare queste due cose questo io ce l'ho anche io in realtà è in odore perché l'ho usato e non ha profumazione quindi secondo me è perfettamente indicato per chi come me ad esempio ha delle dermatite o dei problemi cutanei io lo consiglio molto e poi la cliente mi ha ordinato anche due balsami labbra uno al ciliegia e uno al carité e poi ha due campioncini per gli acquisti che ha fatto perché dei bagnoschi mi erano suoi di quelli che vi ho fatto vedere prima qua volevo farvi vedere che ho un paccone con dentro una miriade di cataloghi di natale che mi ha gentilmente dato la mia responsabile di zona la mia capogruppo e quindi volevo sapere se avete qualche idea su che cosa posso farmene perché un po' li ho smerciati in giro insomma un po' però mi sono rimasti se avete qualche idea di qualcosa da creare poi avevo un altro sacchetto che ho già consegnato alla cliente ma avevo fatto una clip quindi vi lascerò qui la clip di quello che aveva invece la cliente e per il resto avrei da ordinare altre cose quindi non so se riuscirò a fare un altro ordine su album 13 oppure se lo otterrò direttamente per album 14 quindi per questo album è tutto io spero di vedervi prestissimo altrimenti ci vedremo per lo spacchettamento sicuramente di album 14 se non riuscirò a fare un altro un altro ordine per album 13 ciao ragazzi buona giornata un bacio